La procura di Firenze ha chiesto un rivio a giudizio per 30 tra persone fisiche e aziende coinvolte nell'inchiesta sul cheo. I fanghi tossici di risulta prodotti dagli scarti della concia delle pelli dalle fabbriche di Santa Croce sull'Arno che secondo gli inquirenti sono stati smaltiti in modo illecito in vari luoghi e siti toscani. L'udienza per eliminare si aprirà il prossimo 12 aprile davanti al giudice Gianluca Mancuso. Tra gli imputati 24 tra esponenti politici, dipendenti pubblici e imprenditori collegati al clan dell'Andrangheta, Gallace di Guardavalle, Catanzaro e sei aziende. Tra le accuse dell'inchiesta a vario titolo, quelle di associazione per delinquere finalizzata alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, corruzione in materia elettorale e di indebita erogazione di fondi pubblici ai danni della pubblica amministrazione, falso impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari. Tra gli indiagati rischiano di andare alla sbarra Ledo Gori, ex capogabinetto del presidente della regione Gianni, il funzionario regionale all'ambiente Edo Bernini, il consigliere regionale PD Andrea Pieroni, ex presidente della provincia di Pisa e la sindaca di Santa Croce sull'Arno, Giulia De Idda. Ad Andrea Pieroni è stato contestato il reato di corruzione elettorale. Per l'accusa si sarebbe impegnato a far approvare un emendamento su rifiuti cheo per ottenere i voti del distretto conciario alle elezioni regionali toscane del maggio 2020. Non ho intascato denaro né percepito altre utilità per avvantaggiare private, ha detto lo stesso Pieroni. Mi rimane l'accusa di corruzione elettorale priva di qualsiasi fondamento. A tal fine viene rispolverata una norma di 70 anni fa. Sono sorpresa amareggiata, ma soprattutto sono innocente. Si sfoga così in un lungo post Facebook la sindaca PD di Santa Croce sull'Arno.